Spari contro un'abitazione per intimidire, per vendicare qualcosa, ci potrebbe essere una liti al culmine di una discussione nata per motivi ancora poco chiari alla base dei ripetuti colpi di pistola sparati stamattina all'alba nel quartiere Mariconda a Salerno. Sarebbero almeno otto quelli esplosi da una pistola semi-automatica nella zona orientale della città di Salerno. Gli spari alle prime luci dell'alba in via Raffaele Mauri, nei pressi della piazzetta di viale delle vittime dell'alluvione di via Alfonso Lamarmora, è possibile che si sia trattato di una stesa. L'allarme stamani prima delle 5 quando alla centrale operativa del numero di emergenza 112 è arrivata una segnalazione di colpi d'arma da fuoco nel quartiere che ha fatto giungere sul posto alcune gazzelle dei carabinieri del nucleo radomobile di Salerno. Intervenuti sul posto anche i militari dell'arma del reparto e investigazioni scientifiche che nel corso del sopralluogo hanno rinvenuto diversi bossoli. Non risultano feriti ma il primo piano dello stabile di via Raffaele Mauri è al Civico 2. Una vetrata restituisce l'immagine di un pannello di un tiro a segno dove sono ben evidenti le crepe sul vreto da colpi di pistola. Pare che i proiettili sono stati sparati da un'auto di grossa cilindrata in corsa che in più riprese almeno tre volte a distanza di poco tempo l'una dall'altra avrebbe percorso il tratto di strada di Mariconda con un obiettivo sempre ben preciso l'abitazione al primo piano. Da capire il movente e se l'episodio è collegato all'esplosione di un altro colpo di pistola semi-automatica poco distante nel quartiere di Santa Margherita in piazza San Martino nei pressi di uno stabile dove circa tre anni fa un uomo, un noto pregiudicato, fu raggiunto da un proiettile al polso al terzo piano della sua abitazione. Gli uomini dell'arma attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero già individuato un'auto di lusso di colore scuro che non si esclude possa essere provento di furto o presa a noleggio ed ascoltato alcune persone che potrebbero aver fornito elementi utili a ricostruire quanto accaduto all'alba di oggi. È chiaro che chi ha sparato si sia particolarmente accanito verso qualcuno che a più riprese ha cercato compulsivamente per regolare qualche conto tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti che potrebbero viaggiare su uno stesso binario quello dello sgarro di una vendetta maturata anche per contrasti legati alla droga.